Mi chiamo Andrea Montanari, sono consulente finanziario del gruppo Creta Agricola. La mia passione più grande sono le auto d'epoca. Questa qui è una balilla del 36, è un 4 marce, un 1.000 di cilindrata e ha una velocità di crociero intorno ai 60 all'ora, quindi è difficile prendere il velox con queste macchine. Questa qui è una Citroen italiana. Negli anni 20, quando fu fondata la Citroen Italia, per aggirare i dazi doganali che c'erano in quell'epoca, la casa madre aprì una succursale in Italia. Il motore e il telaio della macchina venivano dalla Francia. La carrozzeria veniva fatta dalla Boneschi. Essendo Creta Agricola in Italia, quindi il connubio è perfetto.